Abbiamo pensato di continuare questo cammino sempre con gioia, con grande entusiasmo e grazie all'impegno di tutti i coordinatori culturali del Parlamento della Legalità Internazionale noi abbiamo già insediato più di 50 ambasciate nella nostra bella Italia. Anche al Cairo abbiamo insediato l'ambasciata della Fratellanza, grazie ai nostri due amici benchieri abbiamo portato anche un messaggio forte in America e adesso ci accingiamo ad andare in Costa d'Avorio. Daremo vita all'ambasciata dell'amore per la vita perché dove c'è l'amore c'è sempre vita, c'è sempre solidarietà, c'è concretezza, non ci sono chiacchiere. E allora io voglio ringraziare di cuore intanto il dottore Vincenzo Mallamansci, presidente dell'Associazione Internazionale Ollus Ti Porto in Africa. Il nostro incontro è stato veramente bello, direi quasi, lasciatemi passare l'aggettivo, benedetto da Dio, perché ci siamo incontrati due persone che preferiamo agire, preferiamo dire da quale parte stiamo. E quando il dottore Vincenzo Mallamansci, grande cardiologo di fama mondiale, mi disse che tante volte vai in Africa, proprio in Costa d'Avorio, ad assistere, a portare un messaggio di speranza e di amore alla vita, abbiamo pensato perché non portare anche il Parlamento della Legalità, visto che, come disse il giudice Antonino Caponnetto, primo presidente onorario del Parlamento della Legalità, contro ogni violenza dobbiamo pensare a colori. I colori sono i colori della vita, dell'amore, della solidarietà, della fratellanza, della gioia. Ed ecco che adesso abbiamo proprio la certezza che andremo nel villaggio di San Pierre, lì consegneremo al vescovo di quella diocesi una bella targa, porteremo un messaggio concreto, perché vedete parlare è bello, fare sermoni, chiacchierologia, affascina. Ma non è detto che tutto ciò che affascina è vero. E allora noi, se abbiamo insediato più di 50 ambasciate, nelle scuole, negli ospedali, nella parrocchia, ma anche nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine, nell'esercito, grazie al generale Giuseppe Nicola Tuota, l'ambasciata dell'impegno, della resilienza alla scuola allievi della Polizia di Stato, di Peschiera del Garda, della Speranza, al carcere Malaspina. Ovunque c'è spazio portiamo il fresco profumo di libertà. Quali sono le priorità in questo villaggio della costa da voi? Le priorità sono assistenza ai poveri, accoglienza degli ammalati, particolare attenzione a chi è provato dalla malattia. Il dottore Vincenzo Mallamaci è un cardiologo e puntualmente va lì. E quindi in quel luogo, dove sicuramente c'è una struttura ospedaliera, verrà messa questa targa. L'ambasciata dell'amore per la vita. L'ambasciata dell'amore per la vita. Grazie.